c'è un video di un video magari non c'è un video capito la prima volta l'ultimo Il figlio di Natale stavamo da poter dire due a Pasqua e due a Natale. Poi mi ho diventato una parte di Pasqua, è quella di Pasqua e Pasqua. Ma significa la pace, la pace significa la pace a ferire. E te la vedi sui contenuti in buc'ora. Grazie a tutti.